Drammatica la scena che si è presentata ai carabinieri. La vittima a terra immobilizzata, sopra lui uno dei suoi aguzzini, l'altro poco distante, tutti e due armati di coltello con lame di 8 e 9 centimetri ed uno storditore elettrico. L'intervento immediato dei militari dell'arma ha scongiurato che potesse accadere qualcosa di ancora più grave. Il blitz è scattato dopo la segnalazione di alcuni movimenti sospetti a Vede Lago in un edificio che si affaccia sulla statale. Sono intervenuti qui i carabinieri in questa casa in costruzione abbandonata. Qui hanno trovato la vittima legata mani e piedi con il nastro adesivo sulla bocca. Nel pomeriggio di sabato, torno alle ore 16, i carabinieri Castelfranco Veneto durante uno di questi servizi di prevenzione hanno notato uscire dal casolare stesso un giovane in sella in una bicicletta. Hanno proceduto il suo controllo e il giovane è stato trovato in possesso di una tessera Bancomat, un portamonete con all'interno una somma di circa 60 euro e anche il codice PIN del Bancomat stesso, oltre anche alle chiavi di un'autovettura. Immediatamente è stata fatta irruzione nella casa. Al piano interrato è stato trovato l'ostaggio, seviziato, picchiato selvaggemente, in balia dei malviventi. Due ragazzi nulla facenti italiani di 18 e 20 anni, parzialmente travisati, che sono stati bloccati dai militari. Grazie all'intervento effettuato appunto nell'immediatezza, nell'urgenza della drammaticità della situazione, la vittima è stata liberata ed è stata immediatamente condotta presso l'ospedale di Castelfranco Veneto dove le sono state diagnosticate lesioni varie per una prognosi di circa 30 giorni. Una trappola diabolica, quella pianificata nei minimi dettagli dai tre giovanissimi. La vittima, impiegato cinquantenne, aveva conosciuto da qualche tempo uno dei tre ragazzi in una piattaforma social e dopo alcuni scambi di chat aveva consentito di incontrarlo in quel casolare. Una volta all'interno ha trovato ad attenderlo i complici che lo hanno prima stordito con un taser e poi colpito ripetutamente in tutto il corpo. Volevano i soldi, i suoi effetti personali volevano ed avevano ottenuto il codice PIN del Bancomat per prelevare i soldi. Gli investigatori pensano che questo non fosse il loro primo colpo e lanciano un appello. L'intendimento è proprio questo di invitare altre persone che per motivi di riservatezza non abbiano ancora denunciato fatti analoghi dei quali sono rimasti vittime di presentarsi presso i carabinieri di Castelfranco Veneto e verrà fornito loro massimo usilio e quindi anche chiediamo il supporto di altre vittime per la prosecuzione delle indagini. I tra arrestati dovranno rispondere di sequestro di persona, rapina aggravata, lesioni e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.